I miei capelli bianchi la dicono molto lunga, ho non pochi anni, per ora mi mantengo vispo e vegeto, però nei miei anni in cui ho fatto il giornalista militante, mi sono molto dedicato ai temi di carattere culturale, ho avuto il piacere e l'onore di incontrare tanti protagonisti della letteratura e della cultura italiana del Novecento, parlo di George Simenon, di Riccardo Bacchelli, di Salvatore Gotta, di Oriana Fallaci, di tanti personaggi, Eugenio Montale, ebbene questi miei incontri, queste mie conversazioni con questi personaggi sono diventati tanti articoli all'ora per la Domenica del Corriere ed oggi sono diventati tanti brevi ebook che sono un documento, un diario, un diario del mio Novecento, ecco, Diario del Novecento, si intitola la collana che raccoglie tutti questi miei incontri con personaggi tanto, tanto importanti. Leggeteli, sono ebook brevi e che costano molto poco.